Ciao, finalmente siamo al caldo dopo una giornata un po' difficile per tutti, immagino, perché le condizioni stamattina erano abbastanza critiche, tipo Milano-Sanremo di una settimana fa, però per fortuna noi avevamo solo 35 km, pioveva e in cima alla salita c'erano due gradi, però penso che, beh io mi sono divertito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La gara era bella, diciamo che la pioggia l'ha resa un po' più tecnica, le discese erano più divertenti, rispetto a ieri che erano un po' più facili, oggi si divertiva di più, solo che faceva veramente un gran freddo. per fortuna hanno tagliato un pezzo, mi hanno fatto meno salita e niente, bella gara. Ma quarta gara quest'anno è quarta gara col fango e col freddo, non è un buon inizio, oggi il secondo posto, ho fatto tutta la gara davanti con Casagrande e poi il finale, da metà in poi ho partito veramente il freddo, oggi all'arrivo non stato più in piedi dal freddo, comunque dai la condizione è buona, ci tenevo a vincere quest'oggi, quindi sono un po' rammaticato. e proseguiamo su questa strada, mi sembra di aver fatto un buon inizio fino a questo momento. Oggi i nostri partecipanti hanno espresso il vero e proprio spirito della mountain bike, hanno sfidato effettivamente, sono stati dei 2000 iscritti, ben oltre i 1300 hanno sfidato questo vento, pioggia e hanno espresso veramente il vero e proprio spirito della mountain bike, come dei vecchi pionieri. Per il prossimo anno stiamo studiando qualcosa di veramente epico, veramente importante, ci riserviamo ancora un po' di suspense, non vogliamo svelare nulla, ma prepareremo qualcosa di veramente spettacolare. Un applauso all'appodio societario, tra virgolette. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.